Due minuti Due minuti Due minuti Due minuti Due minuti Grazie. 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 Puoi guardare anche questo? Sì, sì. Grazie. 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 No, se poi sembra... Se sembra bianco... No... 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 No, se sembra bianco... Sì che stiamo in una versione, forse non ciò che vede. Grazie a tutti. 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 Buon Naturo. Buon Naturo. Buon Naturo. Buon Naturo. Buon Naturo. Buon Naturo. No, non ti ricorda. E' uguale. Grazie. Vai sopra la riga, l'altezza è uguale. Dai Marco. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.